e con 2018 siamo allo stand ACC abbiamo davanti a noi Pennywise realizzato appunto da Steve Wang un lavoro incredibile ragazzi impressionante i dettagli che ci sono in questa staff cerco in qualche modo di farvi vedere tutti quanti c'è veramente un vero capolavoro per gli amanti del genere qui Steve Wang si è veramente ha mostrato la sua esperienza nel realizzare statua nel realizzare diciamo questi veramente piccoli capolavori pochi pezzi ma realizzati veramente bene un accorgimento poi molto bello di questa statua che ha colpito e mi ha colpito anche particolarmente che avevo già visto nei studi di Steve Wang è la seconda testa alternativa che viene messa praticamente qua sotto nel tombino dove sta cadendo appunto la barchetta in questo pezzo qua dove c'è l'acqua che sta cadendo nel tombino si rimuove e si mette la seconda testa alternativa quindi sulla statua quella che avanza diciamo si mette sotto un accorgimento molto interessante perché come sappiamo abbiamo sempre il problema di dove sistemare le spare parts quindi gli accessori che sono a correre con la statua questa è un'idea veramente ma veramente intelligente per l'aveva sempre a portata di mano dal vostro battle San Diego Comico è tutto ciao alla prossima